Una nuova altalena inclusiva che permette l'accesso anche ai bambini diversamente abili. L'installazione del nuovo gioco fa parte del progetto altalena inclusiva dell'associazione Genia. Ora a disposizione di tutti i bambini in Viale Trieste, nell'area gioco collocata, l'incrocio con via Monfalcone, vicino ai bagni Gastone Marta. Un dono speciale alla città di Pesaro per abbattere le barriere nei confronti dei diversamente abili. È un'altalena adatta a tutti i bambini che non riescono normalmente a utilizzare le altalene con il sedile standard. Oltretutto è anche un gioco sociale perché poi può essere un'altalena spaziosa quindi può essere utilizzata anche da più bambini contemporaneamente. Noi ringraziamo naturalmente le istituzioni che ci sono sempre vicine e che hanno permesso di poter realizzare questo progetto. Il tutto è stato reso possibile anche grazie al consigliere regionale Andrea Biancani che ha lavorato per il riconoscimento di un contributo da parte della regione. Devo dire che è stata veramente una bellissima scelta. A volte anche con poche risorse, sono dei piccoli gesti che possono far felici anche delle famiglie che hanno magari in casa dei ragazzi, dei bambini disabili e grazie a questo tipo di giochi possono come dire anche stare loro e giocare insieme agli altri bambini. L'installazione dell'altalena è avvenuta anche grazie al supporto del comune di Pesero che per conto degli assessori Giuliana Ceccarelli ed Enzo Belloni ha individuato l'area adatta e svolto i lavori necessari ad accogliere la struttura.